C'è stato uno switch qui allo speaker, sono tornato io, Gianmarco, ma con noi abbiamo un ospite, il professore Michele Bonino, quindi innanzitutto grazie per essere qui con noi. Grazie a voi. Allora, Michele Bonino, docente di progettazione architettonica urbana al Politecnico di Torino, ma oltre questo ha la delega del rettore alle relazioni internazionali, in particolare con i paesi asiatici, giusto? Giustamente. Ho studiato. Bellissimo. E in questo senso lei, forse in particolare anche per questa delega, è coinvolto in molti eventi, in questa biennale della tecnologia, ne ha appena terminato uno proprio da poco, esatto, era in un dialogo che è iniziato, se non sbaglio, alle 10 di oggi, in un dialogo tra Italia e Giappone su come ripensare le città e l'evoluzione delle città in due paesi distanti, ma accomunati da una caratteristica che è il problema della contrazione demografica, sappiamo siamo i due paesi più anziani, forse, del mondo. Com'è andata questa iniziativa? È andata molto bene, perché proprio questo che hai appena detto, ovvero della comunanza di sfide che i due paesi, pur nelle loro evidentemente differenze culturali, hanno, oggi si è trovata un'intesa, cioè erano presenti sia il console generale del Giappone a Milano, a Maia, sia l'online, l'ambasciatore italiano a Tokyo, il rettore che ha introdotto, e quindi proprio alcuni temi in comune, alcune sfide che ci vedono attivi in Italia e in Giappone, una era quella proprio l'invecchiamento della popolazione, quindi la conseguente riduzione di alcuni centri urbani, soprattutto quelli più piccoli, la sfida dell'heritage culturale, cioè il fatto di preservare, restaurare il patrimonio immenso che sia Italia e che Giappone hanno dal punto di vista storico, e anche la gestione del rischio ambientale, cioè il fatto che entrambi i paesi sono esposti a terremoti e problemi di varia natura dal punto idrogeologico, sono stati al centro di questa iniziativa. Si è trattato in realtà del primo di tre momenti in questa biennale, ogni mattina alle dieci nella sala proiezioni, la sala Lumière, si proiettano due di queste conversazioni Italia-Giappone su scienza e tecnologia, che sono state prodotte negli scorsi mesi a cura del Polito, dove in ognuna di queste un docente o una docente del nostro Ateneo, insieme a colleghi giapponesi di diversi partner, oggi nella Tokyo University per esempio, discutono di queste sfide tecnologiche. E in questo senso il rapporto con l'università giapponese, con la cultura giapponese, cosa ci può dare, cosa possiamo imparare per esempio dalle loro città e dal loro modo di pensare le città? Oggi c'è stata una bellissima, era anche presente online, anche al di fuori della conversazione, che è un prodotto già pre-registrato e montato molto bene dal nostro multimedia, che sarà messo online, tutti questi sette incontri saranno messi online la prossima settimana. Chi li ha persi li può recuperare. Esattamente, cioè c'è ancora tempo domani alle 10, domenica alle 10 per vedere i restanti e poi dalla prossima settimana online. Però al di là di questo Makoto Yokoari, professore della Università di Tokyo, anche già membro della commissione di planning dell'Olimpiadi di Tokyo 2020, quindi una persona molto autorevole, ha raccontato le logiche di politiche verdi nelle città, distinguendo tra i pensieri verdi e gli oggetti verdi. In che senso? Che non basta solamente, bellissima matrice in cui diceva che se noi facciamo una serie di oggetti architettonici o infrastrutturali molto rispettosi nei termini di materiali, di tecnologie e dell'ambiente, ma poi non attuiamo delle politiche o delle azioni di comportamento conseguenti, questo fallisce e viceversa. Se abbiamo ottime polisi verdi, ma poi l'infrastruttura non segue e quindi il futuro è realmente non tanto incentivare l'innovazione massima di ognuno di questi due, ma lavorare sull'integrazione. È stato un concetto molto interessante che è uscito da questa mattina. E proprio per incentivare questi possibili scambi, questi possibili momenti di contatto, non solo delle città, oggi c'erano due eventi delle città, ma domani ad esempio i temi saranno la robotica, la fisica, l'ingegneria strutturale, quindi sono molti evidentemente i temi di scambio possibile. Ecco, per questo che l'Ateneo ha promosso recentemente, perché è stato approvato di fatto un mese fa, la costituzione di un hub in Giappone, cioè sarà, è già approvato, ma l'apertura formale sarà all'inizio dell'anno prossimo, un ufficio del Politecnico in Giappone proprio per favorire la circolazione, esattamente, come stai dicendo, il fatto che si possa di nuovo collaborare dopo la pandemia in maniera molto viva e molto diretta. i tanti partner giapponesi che abbiamo. Ottimo. Noi ritorniamo tra pochissimo sempre con il professore, nel mentre ci ascoltiamo l'ennesimo brano di oggi, nel mentre noi siamo tornati con il professore Bonino a parlare appunto di questa biennale e anche di quanto oriente c'è, stavamo dicendo offline in questa biennale, abbiamo parlato prima dell'evento di oggi che c'è stato e di quelli che ci saranno anche domani e dopodomani tra appunto Italia e Giappone, ma non solo, ci sono anche dei momenti in cui invece il paese che viene in qualche modo studiato e affrontato è la Cina, ci sarà domani un evento, la Cina domani, tecnologia e società, sempre in aula 7, anzi questo dopodomani, al Politecnico e la Cina tra tecnologia, scienza e storia, sabato in aula 1 al Politecnico. E come mai, com'è che è nato questo punto di, questo ponte tra il Politecnico e la Cina e come questi due momenti vanno ad approfondire diciamo questo rapporto? Il ponte tra il Politecnico e la Cina è ormai a più di 20 anni, cioè quindi ben prima che me ne occupassi io, tanti colleghi hanno aperto questo collegamento che ha portato a partire da circa il 2005 ad avere una comunità di studenti cinesi che ha raggiunto più di mille studenti compresenti al Politecnico, ora sono un po' scesi, siamo sugli 800 perché chiaramente le università cinesi nel frattempo si sono strutturate, sono ormai ai massimi livelli, non hanno aiutato alla mobilità internazionale, non è facile, però comunque 800 studenti sono qui, adesso nella Cina. Forse è una delle comunità più sostanziose. Sicuramente, cioè in Italia siamo tra le prime due università in quanto a presenza di studenti cinesi, abbiamo anche una attivissima associazione che ha invece solo due anni di vita di ex allievi cinesi, cioè ormai sono i laureati cinesi del Politecnico, sono più di 2500 e quindi i più sono tornati in Cina, alcuni sono sparsi per il mondo, alcuni neanche stati in Italia, però direi che il 90% sono in Cina, alcuni di loro hanno anche dei ruoli rilevanti, insomma hanno fatto fruttare molto bene la loro formazione internazionale e quindi con loro organizziamo una serie di eventi in giro per la Cina che anche adesso che noi non riusciamo ad andare, loro sono come i nostri ambasciatori là, questo mi sembra molto importante in un periodo invece di sostanziale isolamento della Cina, dal resto del mondo. Avere uno spazio comunque di comunicazione, di contatto. Esatto, non mi sembra molto importante. E questo contatto, come giustamente dicevi, stiamo cercando comunque di coltivarlo perché mi sembra che al di là della delicatezza del momento dal punto di vista geopolitico, delle relazioni con la Cina che non sono facili in questo momento, però credo che come università il fatto di, soprattutto nei confronti delle generazioni più giovani degli studenti, tenere vivo questo ponte culturale sia importante, perché se non ci fosse questo sarebbe ancora peggio. Ne parlavamo anche ieri con il Rettore. Le sfide che il mondo ci pone davanti a noi sono importanti e non possono essere affrontate sul livello nazionale ma internazionale e forse lo spazio accademico più di altri ha la possibilità di riuscire a creare degli spazi neutri di collaborazione che in questo momento servono come il pane. Sì, sicuramente. In particolare per la Cina dove la comunicazione di natura politica, anche il momento economico è difficile, credo che all'Accademia resti invece un ruolo positivo. Nel momento in cui si parla di conoscenze, di cultura, con le dovute cautele, legate soprattutto alle materie, alle discipline più sensibili, però sia fondamentale. Io credo, parlando spesso con i miei colleghi cinesi, fanno capire molto chiaramente che se finisse questo ponte culturale, scientifico, sarebbe ancora più difficile pensare e immaginare di migliorare invece sugli aspetti politici e istituzionali. L'iniziativa di domani, che appunto si chiama La Cina tra tecnologia, scienza e storia, che sarà alle 11.30, nella 1 al Politecnico, vuole fare un'analisi quasi anche storiografica di quelli che sono stati i successi in termini tecnologici della Cina, mettendo un po' a discussione anche la nostra narrazione storica eurocentrica, che penso che sia anche molto utile per relativizzare un po' quella che è la percezione degli altri paesi, che noi abbiamo ogni tanto un po' un'idea anche un po' arrogante nei confronti della nostra conoscenza e competenza, anche guardando fuori da noi. Penso che sia importante in questo senso. Credo che domani sarà importante proprio per quello che dici, cioè cercare di sottolineare alcune situazioni in cui la Cina è stata davvero all'avanguardia rispetto all'Europa, cioè all'Occidente, non su tutto, insomma ci sono stati durante i secoli degli avanzamenti, delle innovazioni tecnologiche, che però hanno visto la Cina a volte stupire alcuni dei pochi visitatori europei, ad esempio Matteo Ricci, che era stato alla fine del Quattrocento uno dei pochi a riuscire ad entrare in Cina dopo secoli, cioè si parlava di almeno tre secoli dove gli occidentali non entravano, da uomo di fede ma anche di scienza era rimasto colpito da alcune invenzioni che erano sconosciute in Europa ed in Cina erano già attive da tempo e viceversa, ad esempio lui aveva disegnato la prima pianta per animetria del mondo per l'imperatore che non conosceva quella visione così complessiva del pianeta. E quindi per chi possa essere interessato ci sarà questa iniziativa domani, nel mentre noi ci ascoltiamo il secondo brano di oggi, siamo arrivati agli ultimi minuti di questa conversazione con il professore Bonino, ci stava finendo di raccontare appunto l'iniziativa di domani, la Cina tra tecnologia, scienze e storie, dove il moderatore Alberto Bardi, che è un docente italiano proprio in Cina. Esatto, ci saranno due illustri ospiti tutti collegati da Pechino, un americano, un cinese, molto esperti, invece Alberto Bardi che è un giovanissimo professore italiano che è stato preso alla Tsinghua University per insegnare storia della tecnologia, ma anche greco antico, lui aveva studiato all'Università di Torino lingue antiche, lingue classiche e quindi è significativo che un'università cinese, peraltro la Tsinghua è la migliore, decida di insegnare ai propri studenti greco antico, proprio per creare un contatto. In cui invece qua c'è la diaspora dei licei classici in Italia e il greco antico ormai fatica. Esatto, che viene spesso definito poco utile, eccetera, però come modo di pensare, modo di concepire il linguaggio e quindi il ragionamento, in effetti in Cina hanno pensato di insegnarlo proprio per avvicinarsi al modo di pensare dell'Occidente, avere una maggiore capacità di interagire, questo è interessante. E questo è importantissimo. E per finire appunto, la seconda iniziativa sulla Cina che ci sarà invece domenica 13 novembre, sempre in aula 7, quindi in sede centrale del Politecnico, è la Cina domani tecnologia e società. Probabilmente questa potrebbe essere un inizio, proprio in questi giorni tra l'altro la Cina ha vissuto il congresso del Partito Comunista, quindi anche un momento particolare in cui fare un'iniziativa del genere potrebbe durare probabilmente un'eternità. Sì, sì, lì faremo un dialogo, insomma, di fatto io farò alcune domande a Lucia Pasqualini, che è stata fino a quest'estate console generale a Canton, adesso lavora a Roma al Ministero degli Affari Esteri, e mentre era console nella scorsa primavera ha avuto una bellissima iniziativa, ovvero costruire un corso ovviamente online dedicato agli studenti italiani, che quindi da alcuni anni, tre, quattro anni non possono raggiungere la Cina, per raccontare le più fresche, le più nuove innovazioni tecnologiche che sono nate in quel paese, e quindi per mantenere un contatto con un luogo, alcune innovazioni che stanno davvero precorrendo i tempi futuri. Ci sono stati invitati sia alcuni esperti italiani molto noti, per esempio Federico Rampini, ma sia anche poi una serie di personaggi cinesi, come aziende tipo Huawei o altre che per esempio sono attive nell'ambito biomedica, nella finanza, proprio per raccontare come la Cina sta innovando, poi con luci e ombre, una posizione non certo, proprio per divulgare agli studenti cinesi cosa non possono perdersi per capire la Cina di domani. Quindi il corso è già stato fatto, peraltro gli studenti del Politecnico sono stati tra i più presenti rispetto anche alle altre università, e domenica faremo un po' un bilancio, un racconto di cosa ha portato questo corso. Ecco, noi siamo quasi alla fine, l'ultima domanda, le iniziative appunto sull'Oriente erano tante, ne abbiamo raccontate qui un po', ma diciamo l'Oriente in questa Biennale della Tecnologia era molto presente, probabilmente perché l'Asia in questo momento è uno di quei continenti cruciali nelle sfide che ci aspettano da quella climatica a quella demografica, e forse l'insegnamento è bisogna conoscerli di più per riuscire a comprendere meglio e avere gli strumenti per poi poter parlare delle sfide del domani. Sicuramente è un continente dalle grandissime differenze, nel senso ci sono da paesi pienamente evoluti come il Giappone di cui abbiamo parlato, da altri che hanno compiuto il loro sviluppo come la Cina e stanno su alcuni filoni superando in quanto innovazione l'Occidente, ma richiedono in particolare la collaborazione dell'Occidente su alcune nicchie su cui sono ancora scoperti, e poi ci sono paesi che invece sono ancora all'inizio nel pieno del loro sviluppo, quindi le sfide per un Ateneo come il nostro, che è molto rivolto all'internazionalizzazione, sono talmente articolate che momenti di approfondimento in eventi come questo di Biennale Tecnologie sono oltre che utili, secondo me anche necessari, per poi essere più consapevoli nell'andare sia a livello della formazione che della ricerca a interagire nel migliore dei modi con questi paesi partner che abbiamo in Asia. E anche ad aprirci eventualmente per noi studenti italiani a prospettive che possono non solo prevedere la nostra permanenza in Italia, ma anche guardare a quei mondi. Ora che sta riaprendo tantissimi di questi paesi, la mobilità riprenderà, quindi mi auguro che saranno sempre di più studenti del Poli a muoversi in Asia. Professor Bonino, grazie mille, è stato un piacere averla qui con noi, e speriamo che possano andare al meglio le iniziative dei prossimi giorni.